ciao ragazzi e bentornati sul canale del coach si 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 lo so magari qualcuno di voi sta andando di fretta ma fidati che oggi ne varrà la pena perché ho messo insieme un complex di esercizi una combo per essere più chiari di esercizi per fare veramente dei glutei rotondi ma perché sto facendo il segno ma non lo so quindi se non vai troppo di fretta preparati riscaldati bene se hai bisogno di qualche esercizio di riscaldamento e come parlo giù trovi il link preparati che ci vediamo tra pochino tra pochino e quindi ragazzi questi sei esercizi che stai vedendo saranno sei esercizi che ti metteranno ad una prova proprio questa fascia muscolare per un bel gluteo ancora con questo segno per un bel gluteo rotondo ma proprio rotondo è una sequenza che se tu non vai troppo di fretta proverò durante il video a spiegarti come seguirli quante ripetizioni fare e soprattutto i tempi di recupero che hai bisogno così per avere la massima efficacia quindi ragazzi questo combo di esercizi diventa diventa veramente importante eseguirla con una certa fluidità come puoi vedere un esercizio completa la quindi un movimento completa l'altro fino poi a finire un lato e iniziare con l'altra gama quindi si alterna ognuno di questi esercizi diventa un solo esercizio quindi completi questa serie di esercizi diventa uno e poi passi all'altro si ripetono per ben 10 ripetizioni quindi sono 10 da una parte 10 dall'altra sia per la lunga oppsi il telefono perdonatevi quindi sia da una parte che dall'altra dopodiché ragazzi è importante anche in questa fase di esercizi cercare di contrarre fortemente l'addome quindi tenere l'addome contratto mantenere una posizione sempre lunga quindi non chiuderti mai troppo quindi stringi forte l'addome come puoi vedere io sono altri esercizi lo contratto sempre ma questo diventa fondamentale così come i tempi di recupero per ogni giro che fai quindi fai prima destra e poi sinistra e fai due minuti almeno di recupero dopo se ti senti bravissimo fai un minuto e mezzo e in totale provi a fare almeno 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 tre giri completi se hai qualche dubbio se c'è qualche problematica o se hai bisogno di qualche piccolo consiglio ulteriore di come affrontare di qualche variante mi scrivi sotto giù nei commenti e quindi ragazzi spero veramente che questo workout ti faccia venire un bel gluteo rotondo sì questa volta lo faccio proprio il segno un bel gluteo rotondo se tu proprio vuoi esagerare lascia un bel mi piace per il coach e se pensi che questo canale ti possa essere utile in futuro ti iscrivi al canale così non perderai qualche altro video io ti ringrazio di essere passato da queste parti ci vediamo alla prossima e allenati bene ciao